Il sindaco Borsellino, che è stato molto vicino a tutta la Giunta, è riuscito a svingolare alcuni pareri vecchi sulla torbuna e hanno avuto i vingoli per giocare, quindi abbiamo il campo a Gibela sotto tutti i punti di vista. Più poi ha contribuito a far aprire gli spogliatoi, tutto che era spettatico. Noi partiamo sempre dal presupposto che dobbiamo fare una squadra per divertirci. Comportarsi bene, cercare di vingere principalmente il premio disciplina e poi se vengono altri risultati dal punto di vista tecnico, tattico, benvengano. Noi interessa la disciplina, la correttezza e passare dei bei pomeriggi in pieno divertimento. E chi sono i giocatori? C'è qualcuno che già conosciamo? I giocatori sono molti della vecchia guardia che giocavano, tipo Catanese, Catania, i fratelli Catania, poi ci sono... in questo momento mi sfuggono, forse l'emozione. Tutti quelli che erano nella squadra di primo Catania quando abbiamo chiuso. Più c'è un bel gruppo di giovani, dieci giovani che si stanno mettendo ora a giocare, in modo tale che la squadra non sia di nuovo un anno e poi più di anno, in modo tale che questi giovani abbiano una bella esperienza, facciano esperienza e così servono per il futuro, per tre, quattro anni e successivamente. In quanto è importante lo sport in generale e in particolare in una comunità... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.